Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di anelli e grazie a Emanuele Bottero che ci ha imprestato la sua officina e le sue mani e se stesso, ovviamente, abbiamo realizzato questo video e questo anello. Presto lo vedrete poi sul sito o in video promozionale. Ciao, vedetevelo. Ciao, vedetevelo. Mi raccomando ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, è durato pochissimo, però spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto bellissimi passarelli!